Buongiorno a tutti, sono Gianluca Ranno, CEO e uno dei tre co-founder di Gnammo, insieme a Valtre e Cristiano. Gnammo è nato nel giugno del 2012 e in poco più di due anni è diventato il più grosso portale italiano per il social eating. Cioè persone che organizzano eventi culinari a casa propria o in altre location, le condividono su Gnammo e poi tutti possono chiedere di partecipare, quelli che noi chiamiamo Gnammer. Su Gnammo ci sono già più di mille cuochi iscritti alla piattaforma e abbiamo messo a sedere in tutta Italia migliaia di persone. Ma Gnammo non è solo questo, abbiamo dato la possibilità a grossi brand come Ferrarelle Barilla e anche a moltissimi piccoli brand di portare direttamente in tavola i propri prodotti e farli conoscere sulle tavole di Gnammo in tutta Italia. Fanno parte di Gnammo oltre a me che mi occupo appunto degli investitori, di rapporti con gli investitori e dei grossi brand. Cristiano che è il CTO quindi si occupa della parte tecnologica e con me degli investitori. Walter che è il nostro CMO che si occupa di curare e cucinare per la community. Poi abbiamo Raffaele Salmaso che è il nostro senior developer, abbiamo poi un fresco fresco stagista e poi Sally che è arrivata adesso da Airbnb per darci una mano a crescere. Cosa ci aspettiamo da 360? Beh ci aspettiamo che ci aiutate a diventare insieme, a costruire insieme la più grossa tavola apparecchiata del mondo. Gnammo, grazie! Grazie! Grazie!